Un saluto a tutti gli ascoltatori di Liberi.tv, ma nello specifico dello spazio Certi Diritti. Chi vi parla è Riccardo Cristiano, questa sera ha come ospite una persona molto importante, che è un'amica, questo lo dico prima di tutti, che è Fernanda Gigliotti, che salutiamo. Ciao Fernanda. Buonasera a tutti. Ciao Riccardo. Fernanda, per chi non la conoscessero, è avvocato di vista politica ed esponente del Movimento PD 25 Aprile. Io inizio da subito a domandare a Fernanda una cosa molto importante, che è la motivazione per cui è stata invidata qui questa sera. Ci riferiamo agli episodi divulgati dai media degli ultimi giorni, riferiti agli stupri in India, che hanno portato a luce purtroppo a un fenomeno molto brutto, che è l'abuso fisico e psicologico nei confronti delle donne. Questo è un contesto che non avviene soltanto all'estero, ma anche in Italia. Fernanda, partiamo da qua. Io ho avuto modo, come chiunque altro che vive attentamente nella realtà, nella propria realtà, con senso critico ma anche con senso di osservazione, di notare come questi fenomeni di violenza psicologica, di stupri, ma anche di femminicidio, di veri e propri assassini, sono in forte crescita in Italia come altrove. Ed è non a caso un fenomeno che si rinviene quando ci sono situazioni sociali di decadenza, di decadenza non soltanto economica, ma di decadenza soprattutto morale e culturale. Noi stiamo vivendo in piena decadenza. Vorrei ricordare, tra l'altro, la morte, che è avvenuta pochi giorni fa, della professoressa Montalcini, che appunto soffermandosi da un punto di vista scientifico su quello che era il concetto di emozione arcaica e di emozione come causa la parte emotiva, il comportamento emotivo, come causa anche delle più grandi acerticità che si sono verificate nella razza umana come causa di gravi violenze, proprio perché la mancanza di educazione all'affettività, alla relazione, alla convivenza, alla capacità di essere in qualche modo sintesi di un processo civile, di convivenza e anche di relazione non soltanto amicale o amativa, ma familiare. Perché poi non dimentichiamoci che il maggior numero degli assassini, di violenze psicologiche, e soprattutto di stupri, all'interno delle malmestiche, non soltanto tra marito e moglie, ma anche purtroppo tra padre e figlio, tra fratelli e sorelle. E non è soltanto un discorso limitato alle donne, perché è molto grave, è un fenomeno che si estende tra parte forte e parte debole, tra parte ricca e parte povera. Cioè c'è sempre la prevaricazione, l'arroganza, la componente quasi animalesca di un processo di degenerazione culturale, di evoluzione rispetto all'educazione, verso l'affettività, che ci dovrebbe consentire un'emancipazione da formi di arretramento culturale e morale. Oggi è un dato in costante crescita ed è anche il sintomo di una grave difficoltà dell'uomo, soprattutto dell'uomo, perché quasi sempre poi è l'uomo che si macchia purtroppo di questi atroci crimini, ad essere la parte effettivamente debole, perché poi chi commette il crimine è la parte più violenta da un punto di vista fisico e psicologico, probabilmente anche, ma è anche la parte che problematicamente è quella sulla quale bisognerebbe intervenire, no? Oggettivamente… Come pensi, si possa intervenire? Cosa consiglieresti a una ragazza che subisce abusi fisico-psicologici? Vorrei aiutarla anche a denunciarli questi abusi di violenza, non so… La denuncia è un atto di presa di coscienza, di consapevolezza e anche di affermazione di sé, e non sempre avviene, perché chi è vittima di queste forme di violenza psicologica, di stupri, di violenza soprattutto che si compiono all'interno della famiglia, è una persona a rischio autostima, una persona che quasi quasi si trasforma, o meglio, arriva addirittura a pensare di essere essa stessa la causa dello stupro, della violenza psicologica. Quindi sono persone che prima di arrivare alla denuncia hanno bisogno di fare altro, di fare dei percorsi, di farsi aiutare, non è banale dire fatevi aiutare dagli amici, ma fatevi aiutare anche dai centri antiviolenza, ce ne sono tanti in Italia, purtroppo soffrono come tanti altri centri che fanno della loro attività, una missione di volontariato anche, ma che purtroppo hanno dei costi, ecco rivolgersi ai centri antiviolenza, ai supporti psicologici, anche legali che sono presenti nel centro, sono fondamentali laddove la famiglia non c'è, laddove la famiglia non riesce, laddove lo stupro, la violenza si compie veramente poi all'interno delle mura domestiche. Anche perché poi una persona si sente vittima, lo dicevi anche prima, pensa che la persona che porta la violenza possa cambiare o comunque, è a lei la colpa di questa violenza? Sì, è una identificazione, c'è un processo di identificazione terribile e demolitivo poi della persona che ha subito la violenza, che quasi quasi vive se stessa come l'onta, come la vergogna e quasi sempre chi arriva a fare la denuncia o perché ha un percorso culturale differente o perché ha una famiglia che la sostiene, ma quasi mai è una scelta autonoma, soprattutto quando si tratta di violenza all'interno delle famiglie, è quello di andare a denunciare, perché capite bene che denunciare un padre, denunciare un fratello, denunciare a una madre è una cosa che è difficile quando si è minori, ma è ancora più difficile quando da minori si subisce e non si è fatto nulla e da maggiori, da adulti si è portati a reiterare gli stessi comportamenti e a considerarli quasi normali, quindi è un danno che si aggiunge al danno, per cui intervenire così come spesso avviene anche attraverso l'individuazione di comportamenti su alcune persone, su alcuni bambini è compito anche di altre istituzioni, istituzioni scolastiche, sanitarie, però poi la denuncia deve partire dalla persona, quindi la denuncia è quasi, anzi è sicuramente un atto conclusivo di un percorso, di una presa d'atto, ma anche di un'elaborazione, che ti autorizza a quel punto a superare quella fase di autoconvincimento di essere la causa, la colpa di quell'abuso e di finalmente emanciparti da questo senso di colpa terrificante e demolitivo della persona, è riappropriarti della tua identità, sia della identità personale che della dignità della persona, che anche quella insomma viene meno di un'attività di prensa. Fernanda, io cambio brevemente l'argomento, rimanendo sempre comunque in ambito donne, perché alla fine si parla tanto di politica, donne, quaterosa, che sarebbe meglio che ci possano parlare in politica, poi alla fine ci sono sempre gli uomini alle spalle e non sono nemmeno poi di grande valore questi uomini. Tu hai pubblicato un post su Facebook qualche giorno fa, lo voglio leggere proprio per analizzarlo con te. Dici, l'anomalia nella nostra provincia, contrariamente a quanto sostituto l'orevole Lomoro, non è stata quella di avere ben quattro donne all'ammettine candidate, ma quello di consentire candidature in dispregio del regolamento delle primarie e indurre al ritiro alcune candidature maschili, per favorire una facile ascenza del commissario della torre. Io vorrei capire un po' questa situazione e la motivazione di questo post. È un argomento molto lungo, non so quanto tempo abbiamo, comunque parto ovviamente dalle primarie del Partito Democratico che ha in qualche modo utilizzato questo strumento per rimediare i danni del Porcellum, con il Porcellum si scelgono, le segreterie dei partiti scelgono i candidati al Parlamento e il Partito Democratico ha voluto ridare agli elettori l'opportunità di scegliere i propri parlamentari nonostante il Porcellum. In Calabria e in molte altre regioni come la Calabria, in particolare la provincia di Catanzaro che è la mia provincia, il rimedio si è dimostrato essere peggiore del male, le primarie sono stato uno strumento non per scegliere effettivamente i candidati al Parlamento scelti liberamente da tutti gli elettori, ma per ratificare una scelta di vertice, la competizione democratica delle primarie è servita soltanto a certificare, anzi a dare legittimazione di scelta democratica di una scelta che invece democratica non era. Nel caso specifico della provincia di Catanzaro l'apparato del partito si è concentrato, ha concentrato le sue forze, chiamando al rapporto segretari di circolo, coordinatori, sindaci, facendo anche tutto quello che era lecito fare, compreso l'utilizzo di tutte le risorse del partito per concentrare la campagna elettorale su Dattorrello Moro che era il commissario regionale del Partito Democratico e la deputata scelta, adesso candidata al Senato. Il tentativo era quello di ridurre le candidature di modo che fossero loro due da soli oppure due massimo, due donne e due uomini, così svilendo il principio delle primarie. In realtà io che cosa ho voluto dire? Perché l'onorevole Lomoro si è lamentata dal fatto che c'erano quattro donne in competizione, a me non mi spaventa, anzi non mi meraviglia affatto che in primarie ci siano più competitor, anzi sarebbe una contraddizione in termini, il contrario. Invece è stato in contraddizione con le primarie e a mortificazione di un principio di partecipazione democratica, l'aver costretto, convinto o in qualche modo ottenuto il ritiro dalla competizione delle primarie di alcune candidature maschili, perché in questo modo si è voluto favorire, di fatto è stato il primo eletto il commissario Dattorre che ha ottenuto su di sé il maggior numero dei consensi possibili. Questo è un uso strumentale delle primarie che non fa bene all'Italia, non fa bene al Partito Democratico e che come è cronaca di oggi, di ieri e spero purtroppo non anche di domani, perché cadazzare abbiamo le elezioni, c'è anche il PD in competizione nella città, ma ha sollevato grosse polemiche perché poi tutto questo è avvenuto sulla base evidentemente di molti equivoci, di molte cose dette e poi non mantenute. Le primarie invece potevano essere un'occasione seria in alcune situazioni come la nostra non le sono state. E cosa pensi che ci sarà di nuovo a queste prossime elezioni? Almeno all'orizzonte vedi qualche faccia diversa? L'unica novità di questa campagna elettorale sono state le primarie del PD e ti ho detto tutto. C'è qualche novità a questi movimenti, spero che anche i radicali contribuiscano a questa purtroppo celebrazione democratica finta, perché ripeto finché c'è questa legge elettorale noi siamo in un golpe, non siamo in democrazia, poi se vuoi ne parliamo anche un altro momento. La novità è stata le primarie del PD con tutti i limiti, poi ci saranno queste nuove formule. 5 Stelle la prendo anche a Casa Pound, Ingroia si sta posizionando per presentare le liste, quindi novità ce ne sono, bisogna vedere chi si porta poi come novità in Parlamento. In Calabria abbiamo ricandidato tutti gli uscenti e forse quasi tutti gli uscenti e anche qualche novità, quasi improponibile, ma va bene così. Fernanda io a questo punto ti faccio una domanda, o meglio non è una domanda, io ti porto sempre perché siccome sappiamo l'impegno che tu hai verso la comunità LGBT per quanto riguarda i diritti civili e hai anche partecipato attivamente con la campagna dai corpo ai tuoi diritti promossa dalla associazione di certi diritti, insomma ti abbiamo visto in foto di recente. No, ho fatto la foto proprio qui in questo studio. Fantastica, esatto, è lo studio. Io mi pongo questa domanda, io mi domando questo, chiunque vincerà l'elezione, chiunque questo sia, secondo te farà qualcosa di fattivo per la comunità dei diritti nel senso, sai bene che di oggi la notizia è che la Cassazione riconosce i genitori omosessuali come genitori che non provocano danni sui figli, quindi arriveremo mai secondo te a un riconoscimento, seppur giuridico e non è comparato al matrimonio, ma un riconoscimento tra le coppie dello stesso sesso. Credo che la politica in Italia sia estremamente in ritardo su molte cose, questo è uno degli argomenti su cui si attesta maggiormente il ritardo, che è un ritardo doloso, non colpevole, è doloso perché è voluto, ogni campagna elettorale su questi argomenti si fa tanto parlare, anche in questa campagna elettorale si fa tanto parlare, addirittura pare che Monti abbia messo, abbia candidato nelle sue viste qualcuno del movimento omosessuale, se non mi ricordo il nome, ma il problema qual è? Che su questi grandi temi spessissimo si fa solo propaganda, poi non si raggiunge mai l'obiettivo. L'obiettivo non può non essere raggiunto perché è l'Europa che ce lo impone. La Cassazione, che ha una visione ovviamente, pensa che perché abbia deciso sia intervenuta la Cassazione su questo argomento, significa che c'è stato un primo grado, un grado d'appello e una decisione in Cassazione. E' probabile che su questo caso siano già passati 20 anni di discussione giudiziaria e noi tutto questo tempo non ce lo possiamo più permettere, siamo fuori dalla storia, fuori dal tempo. Credo che su questi temi il prossimo Parlamento non possa più giocare. Lo ha detto chiaramente Bersani, non so come, in qualche modo ho lasciato intendere anche Monti con alcune candidature nelle proprie liste, per cui credo che qualunque sarà il governo ci sarà comunque una maggioranza parlamentare che dovrà occuparsene necessariamente, non solo sul discorso sull'omogenitorialità, ma sulla legge che regolamenti l'omofobia, ma sul matrimonio. Perché no? E' inutile che parliamo. La famiglia non è un concetto esclusivo della famiglia cattolica, il matrimonio non è un concetto esclusivo della famiglia cattolica, la famiglia cattolica è una cosa, c'è la famiglia laica, che può essere e può avere connotati differenti. Non vedo tutte queste paure, veramente le vignette che sono apparse in rete ultimamente che la famiglia omosessuale, il matrimonio omosessuale mina una pace nel mondo, ma siamo veramente fuori, fuori completamente, fuori di testa, io direi, non fuori d'Europa, fuori di testa. Ma poi chi le dice queste cose, dette magari da una persona qualunque, lasciano il tempo che trovano, sono state dette da Benedetto XVI che dovrebbe essere portatore di pace e invece sembra portatore di guerra, c'è anche il chiaratore di guerra questa nei confronti della comunità LGBT che comunque tenta anche un approccio, ci sono delle comunità, delle branche insomma della comunità LGBT che vanno anche verso la comunità cattolica, che tipo ponti sospesi, quindi cercano anche di avvicinarsi al mondo cattolico. è pericoloso in sé, perché una cosa del genere detta dal Papa autorizza l'imbecille di turno o il coatto di turno o qualunque altra persona che non è in grado di aggiornarsi culturalmente o comunque di portarsi avanti rispetto a certi temi, lo autorizza a fare la qualunque, quindi anche a sviluppare ancora di più una coscienza di violenza rispetto appunto alle comunità LGBT, ma anche rispetto alle comunità più deboli, non necessariamente quelle LGBT. A proposito di comunità deboli, diciamo che abbiamo già detto che tu sei una leader per me per i diritti civili, ma non solo agli esseri umani, perché? 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 Perché nel tuo, nel nostro comune, perché io sono una risultata del comune che non c'era l'inese, è nata da poco una situazione che si chiama La Casa di Argo e tu sei molto di questa, possiamo parlarne che è importante? Sì, 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 ma io non vorrei essere, poiché faccio l'avvocato spesso ci si ride sopra e si dice l'avvocato delle cause perse, no, l'avvocato delle cause difficili, delle cause complicate che per risolvere le quali non basta una legge, è necessario intervenire sulla cultura di un popolo, sulle tradizioni a volte, anche sulle cattive abitudini. Sì, ho promosso la costituzione di questa associazione che è soltanto un'associazione in costruzione, perché è importante prima di fondare legalmente le cose, capire su chi si può fare affidamento e chi no. È un'associazione che ha come compito, come obiettivo primario in questo momento quello di ridurre il numero dei randaggi esistenti nel territorio attraverso il loro insedimento in famiglie adottive, attraverso la loro sterilizzazione e attraverso la loro microcippatura. Abbiamo chiesto aiuto al Comune di Nocera perché ci resta una mano, il Comune in questo momento pur avendo fatto grandi aperture, come ben sai, non credo abbia le risorse economiche per farlo. Allora è un momento di stasi per l'associazione, nel senso che l'associazione non ha fatto grandi passi avanti, ma ciascuno di noi continua a fare la sua parte e io in prima persona. Sono riuscita a trovare, a convincere dei veterinari a fare dei prezzi irrisori per l'intervento di sterilizzazione di questi nostri cari amici, perché io come sai ho otto cani, non ne ho uno. Abbiamo fatto una convenzione, ho qualche occasione per dirlo, ci sono dei professionisti che si sono riservati soltanto il diritto di avere, non il diritto, la copertura delle spese, perché purtroppo siamo un territorio in cui l'abbandono dei cani è troppo frequente, soprattutto l'abbandono dei cuccioli. non si fanno sterilizzare i propri cani, li si fa partorire e poi si buttano i cuccioli, ed è una cosa terribile, devastante. Stiamo lavorando su questo e presto cercheremo di realizzare un coinvolgimento con le scuole, perché attraverso i ragazzi riusciremo a trovare le famiglie, individuare le famiglie dove stanno questi cuccioli o questi cani non sterilizzati, per convincerli alla sterilizzazione, perché è l'unico modo per risolvere il vandaggismo, è l'unico modo per evitare inutili abbandoni e questi cani che insomma io non ce la faccio, sulla strada ogni giorno ce ne sono tantissimi e credo che se assomigliano tutti agli esseri viventi che io conosco e lo sono, perché sono così i nostri animali, sono così i nostri cani, i nostri gatti, è veramente una tragedia infinita, una pena che non ci possiamo permettere. Anche lì interviene, non sono la corte costruzionale, adesso la riforma del codice della strada, che impone l'obbligatorietà dell'intervento sugli animali che vengono investiti in strada, è omissione di soccorso tanto quanto una persona, spero che venga fatta rispettare e che soprattutto mettere a disposizione una sorta di pronto soccorso, perché se no le scriviamo, le leggi tanto per scriverle, ma poi non gli diamo attuazione. Quindi se vediamo qualcuno che, non so, investe un cane o comunque possiamo telefonare, possiamo denunciarlo perché è reato. Certo, così come un reato maltrattarlo, così come un reato maltrattarlo, così come un reato abbandonarlo e altri sì, un reato non prestare soccorso a un cane investito. Tenerlo, questa è una domanda che ti faccio giusto così, anche tenerlo magari in condizioni in catene, non lo so se… Certamente, certamente. In condizioni diciamo incidili. C'è maltrattamento, è maltrattamento rispetto agli animali e quindi c'è una polizia specifica che è chiamata a fare questi controlli, a valutare se gli animali sono tenuti in buone condizioni e quindi c'è anche la denuncia penale per questi maltrattamenti o situazioni di degrado o nel mantenimento in vita. A volte, come ben sai, ci sono molti collezionisti perché li trattano come delle cose di cani per fare poi le battaglie, le scommesse clandestine e sono reati che vanno ad aggiungersi ad altre forme di reati. Fernanda, il tempo è praticamente quasi terminato, però voglio chiudere con una domanda. Io vorrei sapere quale sarebbe secondo te la prima legge utile da approvare una volta che un presunto governo si insediasse. Quale sarebbe secondo te questa prima legge da approvare? Riccardo, noi abbiamo una crisi democratica in atto, una crisi civile in atto e una crisi economica in atto. Io credo che la cosa principale da fare è affrontare la crisi democratica. La crisi democratica presuppone una nuova legge elettorale, cancellando il porcellum, introducendo una legge maggioritaria o proporzionale, ma che possa dare ai cittadini la possibilità di scegliere il proprio parlamentare. È una legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione che consente la regolamentazione dei partiti politici. Quindi i regolamenti, l'accesso e la democrazia interna ai partiti politici. Così non parliamo più delle primarie del PD e dei brogli ad essi connessi. Per quanto riguarda i diritti civili, abbiamo parlato prima, c'è il discorso sulla omofobia importante, sul matrimonio omosessuale, sulla omogenea etorialità, sulla legge 40, non dimentichiamoci, sul testamento biologico, sul diritto di cittadinanza ai cittadini stradini nati in Italia e sulla cancellazione di quel terribile reato di immigrato clandestino, di clandestinità. La crisi economica non si risolve se non si riparte. Si riparte riducendo il costo del lavoro e riducendo, ahimè, anche il costo dell'energia. E tutto questo deve trovare necessariamente una sponda economica di copertura. con introduzione di Tobin Tax sui grandi patrimoni e soprattutto colpire le rendite finanziarie. Queste sono cose che potrebbero essere fatte in 100 giorni in meno se un governo, come ognuno dice di avere le idee chiare, volesse affrontare veramente queste tre crisi. E si possono fare. Fernando, io ti ringrazio. Prima di chiudere volevo solo dire una cosa, me ne sono dimenticato, l'avevo segnata. Volevo dire che sei anche portavoce per il Sud del Manifesto chi ha paura di certi diritti. Di certi diritti, sì. Di rendico, non abbiamo avuto modo di parlarne. Io ti invito a una prossima puntata per parlarne, per magari, non lo so, discutere di come andate a finire queste lezioni, o comunque di parlare di qualunque cosa interessi a te, perché sei una persona molto interessante, oltre che sappiamo che sei avvocato e sei esponente del movimento PD 25 aprile. Fernando, io ti ringrazio davvero tantissimo per tutto quello che fai per tutti, veramente. Grazie a voi. Grazie a te, a nome di liberi.tv e a nome di spazio di diritti. A questo punto io restituisco la linea della regia a Donato Volpicella per le proseguite delle trasmissioni. Grazie a voi. Ciao a tutti. Grazie a voi, ciao, arrivederci. Grazie a voi.